buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno allora allora siamo quasi vicini alle vacanze c'è chi già sta facendo una vacanza in caso allora volevo partire allora 1999 iscritte ne manca uno uno ne manca uno e arriviamo al 2000 meno uno al 2000 quindi al 2000 iscritto giuro che domani lo saluto saluto nel video di domani ci sarà un video speciale domani non mancate iscrivetevi al canale che domani ci sarà un video speciale particolare verso l'assolito spero spero vi piacerà sarà un gameplay sarà un gameplay fatto in modo diverso da sotto non dirò altro e noi cosa parliamo parliamo dei giornamenti ce ne sono stati pochi però alcune novità per quanto riguarda forse le cessioni dell'inter uno scambio che andreva che i tabalde e tabaldeo magari si chiama con monaco si è sentita questa notizia qua oppure d'albert però sembra sembra più d'albert del psg comunque parliamo del primo scambio alla pari sembra io lo farei proprio subito lo farei sinceramente non lo so se è una cosa vera o non vera sono tante quelle voci di mercato che ne parleranno per altri 10 20 giorni ovvio che se dovessimo scambiare che andreva con baldeo non sarebbe male sarebbe maestro non so come quanto riguarda gli extracomunitari della UEFA lì le robe le liste io non capisco mai niente di quelle cose lì in qualunque modo in qualunque modo ci va sempre nel culo quando acquistiamo dei giocatori nuovi e quello non puoi metterlo nella lista perché è superato il tot di milione comunque quelle cose così poi c'è appena la storia di d'albert adesso sembrerebbe che spalletti lo voglia tenere perché l'ha convinto convinto tu spalletti speriamo magari capace di trasformarlo perché sebbene d'albert sia un giocatore che magari veloce però a volte si perde quindi io mi auguro che ormai un danno su di lui riesca a far sempre meglio e poi vabbè poi c'è il modrici ancora non si capisce ancora c'è da capire adesso all'improvviso riusciamo a prendercelo a tutti i milioni a pagarlo 10 milioni all'anno si sono sentite varie varie notizie su modric che mi stupisce perché a che prima stanno lì a contare il centesimo adesso 10 milioni all'anno così vabbè comunque staremo a vedere staremo a vedere adesso ancora presto per parlare se ne parlerà ancora da qua domenica può succedere di tutto comunque scambio che andrea valde io lo farei voi lo fareste io perché no lo farei proprio a occhi chiusi proprio così e poi altre notizie non se ne sono sentite dar nianza perché non lo prendiamo più appunto non lo so vediamo cosa succederà fatto sta che attaccante manca attaccante cioè bernard volevo prendermi non l'ha capito lei bernard 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 è questo tanto che lui lo fa non lo so neanche non lo so comunque ragazzi ci vediamo domani allora con il video speciale gameplay non mancate ancora un iscritto reno 2000 mi raccomando ragazzi cliccate cliccate mettete delle notifiche che cacchi volete perché domani sarà spero un bel video ma se vi interesserà se sarete interessati iscrivetevi iscrivetevi in tanti forza inter ciao